Oh, ciao cara, mi dai del gelato per favore, siamo un po' di persone, mi raccomando, eh? Sì, allora prendo la vaschetta da un chilo, va bene? Allora, fammi dare un'occhiata per favore, allora. Questo che cos'è? C'è scritto cocco. Sì. Ah, cocco. Allora, mi dai un po' di crema chantilly, un po' di zuppa inglese, un po' di questa crema, poi vorrei del caffè, del bacio, il cioccolato, poi per me un po' di melone. Signora, scusi, no, sono troppi. Non posso scegliere a tuo gusti? Almeno 5, in un chilo ne vanno, sì. Va bene, allora mi dai la fragola e il melone per me, innanzitutto. Va bene. Poi mettiamo un po' di crema chantilly, un po' di zuppa inglese e del bacio, va bene. Aspetti, prima che li metti nella vaschetta, me li fa assaggiare, perché se no sono buoni cambio il gelataio, eh? Sì, me lo faccio assaggiare. Oh, com'è freddo. Buoni, perfetto. Ascolti, mi ci puoi mettere dentro anche i cucissili di marzatane? Sì, gliele metto un pochino, li appoggio qui, va bene? Sono regalati, vero, quelli? Che perfetta. Senta, questi li prendo perché non vorrei dimenticarmi, li hai capito? Ecco, sai, non si sa mai. Hai capito? E bene. Ah, senta, intanto prendo un po' di questi cucchiaini, hai capito? Non si sa mai che a casa non mi bastano quelli di acciaio. Sono proprio carini di legno fatti così, belli, sì. E bene. Allora, sono 27 euro, signora? 27 euro? Ma è uno scherzo? Ma scusi, io di là nell'altro gelataio 20 euro pago un chilo. Pappevo io. No, guarda, glielo lascio, non mi interessa se lo tenga sto gelato. Mi fa passare, per favore, si leva. Ehi, ma guarda, un chilo di gelato 3 euro, ma io prendo questo, scusami. Vabbè, si mangeranno un gusto solo, un bacio.